Ciao a tutti, bentornati sul canale, volete essere Car of the Day, questa è la settimana dedicata a modelli diversi di ogni anno, ha iniziato nel 2017, 2018, 2019, 2020 e oggi 2021, guardate qua che bella, questa è una Camaro RS, quindi 2021, vedete la differenza delle altre blister che hanno, dal 2021 hanno messo questa plastica qua che rinforzano un po' la parte alta perché quando sono praticamente attaccate si rompeva facilmente, quindi hanno fatto quel rinforzo lì dietro, prima non mettevano una plastica davanti, evidentemente costava troppo la lavorazione, adesso hanno fatto questa plastica dietro che la rende un po' più solida, come cartone, quindi questa è una Chevy Camaro RS del 1970, della serie 10 and now, guardate che bella che è questo arancione qua, niente, la apriamo? eccola qua, guardate un po' che è arancione, peccato che insomma è un po' poco rifinita questa macchina qua, potevano effettivamente colorarla un po', dai, cioè si ha le fiancate, le righe sulle fiancate, il numero 70, però era più bella dentro, è una confezione, vederla così, si è un po', un po' stretta, un po', un po' cheap per così dire, eh, perché effettivamente sembra un po' cheap, sembra quasi di quelle cinesi, eh, questa è fatta in Malesia, però si è un po' un modellino, non lo so, c'è le ruote troppo strette secondo me, vedete, è un po' stretta anche davanti, un po' tutta stretta, la più bella di così, vederla nella scatoletta, eh, sembra un po', è vero, qualità inferiore rispetto a tutte le altre che abbiamo visto in questi giorni, eh, molto inferiore, poi stretta, strettissima, non c'è proprio di proporzione, ha disegnata qualcuno che non è tanto bravo evidentemente, adesso sotto non c'è scritto di chi è il disegno, però Mattel 2020, veramente mi soddisfa poco questa macchina, quella molto più bella nella confezione, vedete le ruote davanti come passo, come è stretto, guardate come è stretto anche il muso, le macchine americane solitamente sono belle imponenti, eh, questa invece è molto stretta, ma non lo so se è effettivamente proporzionata, ma poi soprattutto queste ruote qua così all'interno dei parafanghi, le passavuote, mi sembra un po' troppo tutta stretta, insomma, era più bella da, nella scatolina, era più bella, così a vedersi non mi soddisfa, c'è qualcosa che non va nelle proporzioni in questo modello, ha un bel colore arancione, un'arancione anni 70, classico colore che andava di moda in quegli anni, c'era questo, c'era il verde in pastello, c'era insomma, questi colori un po' così, interni bianchi, vedete anche la seduta è un po' troppo avanzata, insomma, non è tanto ben riuscito questo modello, eh, direi che non è tanto ben riuscito, soprattutto al tatto sembra molto, molto economica, diciamo, molto leggera, sembra quasi dilata, sembra più quelle macchinine cinesi che vogliono imitare la Hot Wheels, questa non rende, non rende come Hot Wheels, peccato, e tutto è un 2021, quindi, insomma, non è una macchina di anni fa, è una macchina dell'anno scorso, 2021, un po' deluso, rispetto a quella che abbiamo aperto ieri, che era una Camaro Special Edition, quella di Sic, che era bella massiccia, questa, un po' deludente, vabbè dai, però ce l'abbiamo, l'abbiamo presa, ce la godiamo, dai, un po' quello che è, effettivamente, più la guardo, più mi fa anguscia, come diciamo noi, insomma, non è che mi piace, vabbè dai, l'abbiamo presa a caso, io, in realtà, quando l'ho vista proprio nel Blister, mi sembra molto bella, aprendola, ti rendi conto che effettivamente non ha proporzioni, sembra proprio una macchinetta, davvero, quello da, guardate qua che spazio che c'è tra la ruota e il passaruota, non, no, 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 c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va, niente, non è mai riuscito, vabbè, dai, non tutte riescono, non tutte le ciambelle escono col buco, si dice, quindi niente, questo Car of the Day, una macchinina al giorno, oggi siamo arrivati al 2021, quindi domani apriamo una 2022, una delle primissime che apriamo in 2022, se vi siete persi il video, lì, metto il video delle prime 2022 che abbiamo trovato, ma che non abbiamo ancora aperto, quindi domani apriamo la prima 2022, lo so, non è niente di strano, perché non è che abbiamo aperto una 2023, abbiamo anticipato, però è strano sì, perché solitamente noi le riceviamo intorno a marzo, le prime macchine del 2022, quando ci siamo fortunati, invece quest'anno, già a gennaio, i primi di gennaio abbiamo trovato le prime 2022, abbiamo trovato in una catena di, diciamo, non italiana, tedesca, quindi molto probabilmente hanno una distribuzione diversa rispetto ai classici, toys, center, toys, insomma, tutti i negozi di giocattoli che erano ancora quelle delle, del secolo scorso, tra un po', vai a vedere nei tubi sempre le solite, vabbè, quindi questa se ve la siete persa, andate a cercare ogni un toys che sicuramente ce l'hanno ancora, anche se, io devo dire la verità, sono rimasto molto deluso da questo modello, molto molto deluso, non ha niente a che vedere, come il muscle car americano, insomma, belle massicce, questa qua proprio è mal riuscita, però vabbè, dai, fa parte anche questa della nostra collezione, non sarà tra le top ten, diciamo, di questo mese, quindi niente, dai, ci vediamo domani con un nuovo modello, domani apriamo una 2022, quindi non perdete il video di domani e iscrivetevi al canale perché vogliamo raggiungere la quota a 500 iscritti, dai, ditelo ai vostri amici, condividetelo con i vostri amici perché abbiamo bisogno di crescere, abbiamo tanti tanti modelli da aprire e poi soprattutto abbiamo le nuove, le novità 2022, quindi non perdetevi i prossimi video, quindi ci vediamo domani con un nuovo modello e vi aspetto numerosi, ciao a tutti, ciao ciao! Iscriviti al canale Iscriviti al canale